oggi un viaggio nella storia dell'architettura dalle architetture megalitiche a passando al rinascimento alle cupole di burdon leschi per arrivare al grattacielo per esempio dell'architettura contemporanea il grattacielio come il più emblematico il burj Khalifa di dubai che è il più alto grattacielo al mondo ma prima di iniziare dividiamo un attimo le fasi che ci sono che sono state identificate che appunto sono la preistoria poi l'antichità e successivamente poi il medioevo poi abbiamo l'età moderna e poi quella contemporanea che dal novecento ad oggi insomma allora partendo dalla preistoria quindi tutto quello che riguarda gli antenati fino si può connotare fino all'anno 3000 avanti cristo che quando è poi stata inventata la scrittura e quindi dopodiché si parlerà di storia e in questa prima fase ovviamente si inizia dalle capanne potremmo dire dal focolare che era il punto di protezione dove scaldare dove proteggersi anche dagli animali e quindi poi si costruivano le capanne che poi ovviamente hanno avuto tutti i loro sviluppi con anche l'utilizzo di vari materiali ovviamente tutti i materiali che si trovavano in natura ma nella preistoria non solo hanno fatto capanne ma hanno anche proprio iniziato anche a costruire delle vere e proprie architetture spostando pietre o anzi megalitiche pietre enormi e appunto potremmo parlare di architettura megalitica proprio per esempio Stonehenge in Inghilterra o i nuraghi in Sardegna dove venivano appunto posizionate queste enormi pietre per avere delle protezioni e quindi iniziare a costruire qualche cosa. Passando quindi al periodo dell'antichità che potremmo dire dal 3000 avanti Cristo al 476 d.C. si iniziano appunto ad avere le grandi civiltà soprattutto nella mezzaluna fertile quindi nella Mesopotamia e poi anche in Egitto e quindi avere anche lì le prime grandi costruzioni sia per l'architettura civile delle città che venivano costruite ma che oggi non ci rimangono più testimonianze perché magari erano materiali più scarsi come magari il fango o legno o impasti vari ma venivano già costruite la zigurat appunto in Mesopotamia o sempre in questo periodo c'è la civiltà egizia come tutti sappiamo l'antico Egitto con tutte le loro costruzioni, templi e le piramidi che ancora oggi abbiamo. Sempre nella periodo appunto chiamato nell'antichità abbiamo poi comunque la cultura, ci spostiamo più nel Mediterraneo con la civiltà micenea, cretese per poi insomma andare a quella più emblematica, più importante, quella dell'arte classica, della civiltà classica che è quella dell'antica Grecia. Anche lì abbiamo un altro stile architettonico molto raffinato che anzi che si raffina nel corso degli anni perché passiamo dal periodo così chiamato dei templi dorici poi ionici e corinzi che proprio è tutto una susseguirsi di raffinatezza per appunto i corinzi che poi è l'ultimo periodo con anche molto più ricco di foglie, molto più raffinato ma non entriamo nel dettaglio. Si accavallano ma poi abbiamo appunto i romani che si rifanno all'arte greca e quindi sono come dire simili anche se ovviamente i romani si evolvono, c'è l'introduzione dell'arco e quindi delle volte di tante altre cose e quindi abbiamo appunto l'epoca romana con tutte le loro sue architetture che ci arrivano a noi proprio per la costruzione in pietra, in cemento, già i romani utilizzavano anche nel cemento comunque non solo di templi ma quindi anche di acquedotti, teatri, anfiteatri e il più emblematico possiamo dire che è il Colosseo che tutti conosciamo. Passando al Medioevo quindi dal 476 d.C. al 1453 abbiamo poi l'architettura bizantina quindi l'architettura come per esempio Santa Sofia Istanbul o poi l'influenza che ci arriva anche a noi in Italia con i famosissimi che insomma convenzionalmente potremmo dire dell'architettura bizantina sono i mosaici, i mosaici dorati. Poi abbiamo il Romanico che sono tante volte queste chiese un po' buiette più come dire sviluppate orizzontalmente al contrario del Gotico che appunto è sempre in questo periodo che abbiamo invece queste cattedrali così alte con le guie svettante verso il cielo che si sviluppa principalmente in Francia ma poi si spazia in tutta Europa. Passiamo all'età moderna e che appunto già in età moderna si va a inserire il Rinascimento. Rinascimento quindi stiamo parlando dal 1450 poi al 1500 su per giù giusto per avere un'idea e quindi lo studio dell'armonia, delle proporzioni classiche si vanno a riprendere appunto l'arte greca del classicismo come ispirazione e come sviluppo anche proprio per migliorarsi cercare questa armonia ed equilibrio e qui abbiamo Michelangelo, Brunelleschi, Raffaello, Leonardo insomma una fase storica importantissima soprattutto perché si sviluppa in Italia e crea delle architetture di pregio e di raffinatezza incredibili. Questa raffinatezza un po' si va a perdere o comunque si arricchisce fino un po' allo stremo con il Barocco che appunto è successivo con tanta teatralità e movimento per poi arrivare anche a Rococco, potremmo inserire il neoclassicismo che è un ritorno all'antico nuovamente quindi forse la stanchezza del Barocco si va poi a ritornare delle forme un po' più semplici proprio sempre richiamando il classico dell'antica Grecia o appunto poi i Romani. Per poi passare dall'Ottocento al Novecento insomma che la rivoluzione industriale crea nuovi stili. Abbiamo quindi un'evoluzione molto importante soprattutto con i materiali, con l'arrivo del ferro, del vetro, con la produzione appunto come dicevo industriale e qui abbiamo l'art nouveau oppure con tutte le declinazioni che si hanno in Europa con lo stile Liberty, la secessione in Austria, poi a deco poi anche sviluppato in America e così via per appunto poi passare al modernismo, all'arte moderna, chiamata così ma la troviamo nell'arte contemporanea, al modernismo che è quindi quell'architettura che ormai si avvicina molto dalla contemporaneità e già all'architettura contemporanea, prive di decorazioni e appunto poi con l'avvento anche e soprattutto del cemento armato, quindi abbiamo per esempio le costruzioni di Le Corbusier, di Van der Rohe o proprio del Bauhaus, quindi c'è una netta distinzione dall'architettura precedente che avevano una muratura portante per passare a una struttura molto esile e quindi con la facilità di costruire anche e soprattutto anche in altezza, quindi poi avremo anche la scuola di Chicago dove appunto iniziano a costruire dei primi grattacieli, poi abbiamo il postmodernismo oppure tutte le varie declinazioni di altri stili architettonici contemporanei come dei costruttivismo, quindi per esempio Zadid, Liebeskind o Frank Gehry, un'attenzione sostenibile per esempio Foster che sicuramente è uno dei più importanti che ha subito intrapreso questa direzione, però poi insomma siamo arrivati ai giorni d'oggi dove si parla di tecnologia, di stampa 3D, di anche intelligenza artificiale e quindi dovremo ancora vedere come si svilupperà in seguito. Ho concluso insomma questo riassuntone di questa, delle varie fasi storiche, ovviamente è una linea del tempo insomma molto semplificata e vado a escludere tantissimi stili architettonici o civiltà che poverette magari diciamo convenzionalmente sono meno importanti, ma appunto ne esistono molti altri stili architettonici minori che non ho menzionato. E' una semplificazione anche di dati, sono varie interpretazioni per dove collocare o come definire varie fasi storiche perché tante volte comunque si mescolano, non è così facile da dividere, ma convenzionalmente questa diciamo è la divisione che si fa anche sui libri di storia, insomma. Spero comunque che vi abbia dato un'infarinatura o un ricordo di quello che avevate studiato, insomma, è che secondo me è sempre interessante riavere un po' degli schemi mentali, ecco questa era un po' l'idea.